benvenute e benvenuti questo video è dedicato alle classi quarta i e quarta l visto che io pensavo di stare a casa un paio di giorni per un po di raffreddore ma in realtà il tampone risultato positivo come sapete quindi sono stato bloccato tutta la settimana e se il tampone sarà negativo potrò tornare a scuola soltanto il 2 novembre mi sembrava il caso di fare il punto della situazione di filosofia perché avevamo iniziato un discorso ma l'abbiamo lasciato perdere talmente tanto tempo fa il 21 ottobre per la quarta i e il 19 ottobre per la quarta l siccome ci rivedremo a novembre quindi due settimane dopo e siccome c'erano anche molti assenti in quarta i che sono i ragazzi che sono andati vicino a boston per lo scambio allora ho deciso di fare velocemente un riassunto di quelle che sono state le ultime due lezioni in sostanza partendo proprio dalle scole medievali perché ovviamente noi parliamo di scolastica abbiamo detto quando parliamo di filosofia medievale allora cosa significa scolastica eccoci qua questa è la piantina dell'europa che vi avevo mostrato tempo fa è una piantina che alla caduta dell'impero romano come potete vedere è proiettata sul mediterraneo tutte le scuole filosofiche vi dicevo sono affacciate sul mar mediterraneo e questo è destinato a durare un certo lasso di tempo perché abbiamo visto l'altra volta che c'è una fase intermedia della che è quella della patristica in cui coesistono il pensiero antico e il pensiero medievale in questa fase noi abbiamo studiato per esempio sant'agostino il medioevo europeo abbiamo visto inizia intorno al quinto sesto secolo medioevo bizantino inizia un po' dopo cioè il pensiero pagano la filosofia greca durano qualche cosa di più però entrambi finiscono nel quattordicesimo secolo insomma poi sapete benissimo che dopo c'è la presa di costantinopoli da parte di memet secondo e quindi nella metà del quindicesimo secolo poi tutti i professori di retorica di dialettica e anche di filosofia si spostano da bisanzio in europa e questo è uno dei fattori che causano proprio la nascita del dell'umanesimo e del rinascimento abbiamo suddiviso in varie fasi la storia della filosofia medievale noi ci occuperemo soltanto di alcuni autori nella fattispecie ci occuperemo quest'anno di sant'ommaso e di occam perché abbiamo deciso anche come dipartimento di non affrontare tutto il tutto il programma di storia della filosofia medievale quindi ci concentreremo su quel periodo della storia della filosofia medievale che è chiamato scolastica perché scolastica perché dicevo in classe l'insegnamento prima ancora che nelle università che nascono dopo l'anno 1000 prima ancora l'insegnamento era all'interno di scuole queste scuole possono essere di tre tipi possono essere nei pressi di un'abbazia nel pressi di una diocesi e nei pressi di un palazzo laico per esempio nei pressi di una corte di una famiglia nobile di una corte imperiale infatti vedete che le scuole quelle considerate episcopali sono contraddistinte da un cerchiolino con una croce bianca in mezzo queste sono le scuole che sorgono nei pressi di una diocesi quindi chi doveva studiare studiava presso il vescovo le scuole invece contrassegnate da un pallino senza la croce in mezzo sono le scuole cosiddette palatine per esempio acquisgrana perché acquisgrana una scuola palatina perché ad acquisgrana c'era la corte dell'imperatore le scuole invece quadrate sono le scuole di abbazia le scuole che sorgono nei pressi di alcuni quindi conventi noi perciò parleremo quest'anno di sant'ommaso d'aquino che rappresenta proprio l'apice della filosofia scolastica quindi nell'ultimo periodo occam invece già rappresenta la crisi del pensiero medievale e la nascita di un pensiero moderno di un pensiero diverso da quello che è contraddistinto dalla mentalità precedente quindi qua vedete queste tre scuole per esempio la cattedrale di chartre la scuola palatina di acquisgrana l'abbazia di monte cassino quindi nell'abbazia di monte cassino ci sarà una scuola di tipo monacale una scuola d'abbazia ad acquisgrana c'è una scuola palatina perché sorge presso il palazzo dell'imperatore e a chartre che è sede di una diocesi ci sarà invece una scuola episcopale e questo dura fino a un certo punto cioè dura fino a quando non inizia a prendere piede una nuova istituzione scolastica che sarà l'università e quindi abbiamo dedicato anche una lezione per spiegare come si svolgeva l'insegnamento all'interno delle università esisteva una lezione frontale come avviene oggi che era la lezione frontale nella quale si leggevano alcuni testi che normalmente potevano essere o direttamente i testi sacri l'antico e il nuovo testamento o le sentenze cioè alcune affermazioni sui testi sacri fatte dai padri della chiesa e se vi ricordate avevo chiesto se qualcuno di voi era di lumellonio perché proprio a lumellonio c'è la statua di san pier lombardo che è stato un magister sentenziarum durante il medioevo a questo punto dalla lezione sorgeva una questio cioè un problema e il problema veniva risolto con una disputatio tra gli studenti quindi passiamo pure alla seconda lezione nella seconda lezione noi avevamo parlato nel dettaglio della struttura di queste questio di queste quindi disputatio e di questo insegnamento durante il medioevo quindi se vi ricordate eravamo partiti da qui da questa slide nella quale il professore legge un testo gli studenti seguono il testo e normalmente nei primi anni di insegnamento c'erano le sette arti liberali che sono il trivio il quadrivio di cui avrete certamente parlato anche durante le lezioni per esempio di lettere no le lezioni del trivio sono quelle di grammatica dialettica e retorica mentre le lezioni del quadrivio sono quelle di aritmetica geometria astronomia e musica come avevamo visto questa è una raffigurazione allegorica aspettate che sposto il mio faccione così riuscite a vederla meglio questa è una rappresentazione allegorica delle sette arti liberali ognuna delle arti liberali era figurata con il suo attributo qui vedete un'altra raffigurazione che avevamo visto in classe fatta da botticelli e avevamo detto che la dialettica era raffigurata o con uno scorpione o con la testa di un cane perché una volta che noi siamo afferrati da un ragionamento non possiamo più sfuggirne quindi tornando a quello che avevamo visto in classe per riassumere un po la questione avevamo detto che all'inizio gli studenti dopo aver superato gli esami per le sette arti liberali insomma potevano accedere all'università ma prima nel corso della facoltà di arti che durava una decina d'anni che cosa dovevano fare gli studenti beh innanzitutto anche si annoiavano alcuni perché se voi vedete il primo qui vestito di rosso ha una mano appoggiata sulla guancia quindi sicuramente si sta annoiando perché nei primi due anni gli studenti dovevano ascoltare senza poter intervenire poco per volta potevano iniziare ad intervenire e allora ricoprivano il ruolo di opponents cioè colui che fa una obiezione una domanda come potete vedere ho intitolato questo paragrafo lezio cursoria lezio ordinaria perché avevo detto in classe che la lezio cursoria sarebbe quella che in università oggi è chiamata la parte istituzionale cioè la parte generale del programma e invece la lezio ordinaria è quella che oggi si chiamerebbe il corso monografico cioè un approfondimento su un determinato autore o su un determinato problema a questo punto allora superato questo primo periodo gli studenti continuavano però si annoiavano certamente di meno perché adesso avevano anche il ruolo di respondents in disputazioni bus cioè potevano anche provare a dare delle soluzioni alle domande che venivano fatte all'interno del dibattito in classe naturalmente era il maestro che concludeva il dibattito che concludeva quindi la disputazio che si era svolta in classe e il maestro la concludeva con una determinazio cioè con una soluzione anche perché gli studenti poi dovevano imparare a lavorare in questo modo perché quando riuscivano a concludere le loro questioni con delle corrette determinazioni alla fine quindi potevano superare un esame quindi riassumendo dopo questo periodo di studi c'era una determinazio magistralis e la determinazio magistralis era una vera e propria sorta di tesi di laurea nella quale si risolvevano tutta una serie di questioni via via più complesse quindi qua vi ho messo comunque uno schema aspettate che sposto il mio faccione così magari riuscite a vedere anche voi prima c'è la lezione cursoria la lezione ordinaria e alcune volte si possono fare domande per i primi due anni poi per gli altri due anni si sente solo la lezione ordinaria perché la lezione cursoria dovrebbe essere già stata appresa e si può provare a rispondere a qualche questione alla fine il magister artium riceveva il titolo di baccelliere no quindi dopo avere risolto una questio con la sua determinazio a questo punto c'erano altri tre anni di lezione ordinaria sui libri naturales di aristotele e alla fine c'era un esame per ricevere la laurea fatto questo quindi siamo di fronte a un periodo molto lungo di studi si iniziava la università vera e propria c'erano due anni di docenza voglio dire si faceva l'assistente universitario cultura della materia per usare dei termini odierni un po' anacronistici poi si ascoltavano per sette anni le lezioni di un maestro per due anni si era baccelliere biblicus e poi baccelliere sentenziarius cioè il baccelliere biblicus si occupava della lettura delle scritture mentre il baccelliere sentenziarius si occupava delle sentenze e dell'eventuale commento alle sentenze e il baccelliere formatus era un maestro vero e proprio un maestro universitario vero e proprio e dopo quattro anni di tirocinio potremmo dire come baccelliere formatus poteva sostenere una tesi che oggi diremmo di dottorato che era la determinazio valde prolixa cioè una soluzione di un problema assolutamente articolata questo vuol dire prolixa non vuol dire prolissa non vuol dire prolixa in quel senso negativo ma vuol dire validamente articolata validamente sviluppata detto questo a volte il dibattito delle aule universitarie era arricchito dalle questio quad libetales nei periodi festivi come possono essere l'avvento come possono essere il periodo prepasquale della quaresima i maestri più famosi si scontravano in un dibattito pubblico nel quale si cimentavano a risolvere dei problemi che potevano riguardare qualsiasi questione e quindi chiunque poteva proporre un determinato problema al professore universitario chiunque dentro l'ambiente accademico si sta naturalmente parlando di chiunque all'interno dell'accademia perciò scelte da chiunque a quali bet e su qualunque argomento de quali bet il modello della disputatio questo non l'avevamo ancora visto in classe è quello di gesù nel tempio voi sapete leggendo i vangeli che quando maria e giuseppe ripartono non vedono gesù con loro maria pensa che gesù sia con giuseppe giuseppe pensa che gesù sia con maria e quando si rendono conto che gesù non c'è tornano a gerusalemme e gesù bambino si trova nel tempio e sta discutendo con i dottori quindi questo sarebbe il modello della questio e della disputatio infatti nel vangelo di luca è raccontata questa storia e ovviamente gesù era un grande maestro perché leggo le ultime tre righe e tutti quelli che lo divano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte ecco quindi il modello da cui nasce la disputatio questo ancora non l'abbiamo visto lo faremo la prossima volta perché riguarda san tommaso d'aquino e l'analogia dell'essere quindi l'ultima lezione di cui ho parlato e di questa lezione ho parlato solo in quarta l non ho ancora parlato in quarta i era la lezione relativa alla disputa sugli universali uno dei problemi principali del mondo medievale era l'esistenza o meno degli universali cioè delle idee a livello ontologico quindi quelle che noi chiamiamo idee platoniche che i medievali spesso chiamavano universalia sono concetti sono delle realtà che esistono separatamente dalle cose e la soluzione poteva essere di quattro tipi sostanzialmente realismo esagerato realismo moderato concettualismo o addirittura nominalismo vediamo quindi queste quattro soluzioni la prima è il realismo esagerato questa è la tesi platonica sostanzialmente cioè gli universali devono esistere prima delle cose concrete questo era quello che pensava platone per platone il mondo delle idee precede a livello ontologico ma anche a livello cronologico il mondo delle cose sensibili la soluzione che cerca di mediare il realismo esagerato è quella data da san tommaso d'aquino ed è il realismo moderato cioè gli universali esistono in tre modi diversi nella mente di dio ante rem cioè prima della cosa come avevamo visto anche in sant'agostino le ragioni seminali le ragioni seminali erano i pensieri della mente di dio nelle cose noi riconosciamo l'universale in re quindi io riconosco che questa è una presa elettrica nel momento in cui vedo la cosa in re nel momento in cui vedo la cosa capisco che non è un pezzo di plastica nero quadrato ma che è una presa della luce e a questo punto allora post rem dopo aver visto la cosa post rem vuol dire dopo la cosa si forma nella mia mente il concetto quindi ante rem nella mente di dio in re nelle cose perché sono le forme delle cose gli universali e post rem nella mente umana che dopo aver riconosciuto le forme delle cose si forma il concetto poi c'è la tesi del concettualismo secondo la quale gli universali sono dei concetti quindi come concetti possono esistere solo post rem e questa è la tesi di pietro abelardo e anche di di hocam anche se il vostro manuale ritiene hocam più nominalista ma la posizione del nominalismo è ancora più estrema per i nominalisti l'universale non ha una reale esistenza ontologica perché l'universale esiste solamente come nome cioè l'universale è un flatus vocis un'emissione di suono della nostra voce e attraverso una parola noi creiamo una categoria che raggruppa più cose quindi la frase che spiega benissimo il nominalismo è non esiste nulla all'infuori dell'individuo eccetto l'individuo questa tesi è stata subito reputata eretica perché la trinità non può essere spiegata con il nominalismo perché allora dovremmo dire che non esiste la trinità ma che padre figlio spirito santo sono solo tre nomi per indicare dio in realtà sono tre persone secondo la teologia cattolica a questo punto avevamo ricordato anche all'inizio della lezione non so se l'avevamo fatto anche in in quarta i sicuramente l'avevamo fatto in quarta m avevamo ricordato l'albero di porfirio porfirio doveva spiegare ad uno studente romano che si chiamava crisa orio il discorso sugli universali crisa orio non aveva un po la zucca dura e allora il discorso è stato semplificato attraverso il disegno di un albero e con questo disegno di un albero sostanzialmente porfirio dice che il genere è come se fosse il tronco di un albero la specie è come se fosse una diramazione di questo tronco dell'albero per esempio l'uomo all'interno di questo ramo noi abbiamo altre diramazioni per esempio una differenza specifica dell'uomo è quella di essere animale razionale un esempio di proprio è la capacità di ridere mentre un esempio di accidente cioè di qualcosa che ci può essere ma che potrebbe anche non esserci è quella di essere seduto chiaramente se mi metto in piedi diventa un po più complicato parlare per 20 minuti sto più comodo seduto e però potrei anche alzarmi in piedi e quindi essere seduto in questo caso è un accidente cioè qualcosa che ci può essere ma che ci può anche non essere come dire il cuscino sul divano detto questo quindi io penso che voi abbiate già questi appunti nella vostra mail e quindi noi da qui possiamo ripartire per affrontare santo maso d'aquino e poi concludere con il secondo giro di interrogazioni vi invito anche a scegliere già se volete il momento il periodo più propizio per iniziare a farlo Grazie a tutti